Come accedere a ON tramite la chiamata di autenticazione ON Call. Accedi al sito sparcasse.it e clicca su Login, poi clicca sull'icona ON e su Accedi. Si apre una nuova pagina, inserisci il tuo attuale codice utente e la password ed entra. Se ti trovi all'estero, fai clic su Sono all'estero per ricevere la chiamata di autenticazione. Se ti trovi in Italia, fai clic su Sono in Italia. Chiama dal tuo cellulare il numero verde e inserisci il codice di quattro cifre indicato sullo schermo, seguendo le istruzioni vocali. Adesso puoi utilizzare ON. Per accedere più velocemente, utilizza ON Call semplificata. Inquadra il codice QR con la nuova app di Sparkasse ON. Come autorizzare un'operazione su ON tramite la chiamata di autenticazione ON Call. Inserisci su ON i dati dell'operazione da autorizzare, in questo esempio un bonifico, e fai clic su Conferma. Se ti trovi all'estero, fai clic su Sono all'estero per ricevere la chiamata di autenticazione. Se ti trovi in Italia, fai clic su Sono in Italia. Chiama dal tuo cellulare il numero verde e inserisci il codice di quattro cifre indicato sullo schermo, seguendo le istruzioni vocali. Ascolta e controlla il riassunto vocale dell'operazione e conferma digitando sul tuo cellulare il secondo codice di sei cifre mostrato sulla schermata. L'ordine è stato inoltrato con successo. Riceverai una notifica tramite e-mail. Per autorizzare più velocemente, utilizza ON Call semplificata. Inquadra il codice QR con la nuova app di Sparkasse ON. Scaricala dall'App Store del tuo smartphone.